Ora non sono di ganeto e l'altore, due ne all'alte e sole, un romano e un amore. Bravo Ale! secondo arrivato Bariviera Diego un taglio di cappelle cos'è un taglio di cappelle? è la pizza con le ragazze guai se non ci sono per una sanzitata Gisneri Luca Flaibanese secondo arrivato Giambussi Michele Doni 2004 secondo arrivato vai Michele primo arrivato con maglietta trofeo e buono per la pizza De Marco Samuel Sacilese e ora Michele mi fa toccare la ciabatta passiamo la categoria di 5 potete scendere